Ciao a tutti amici di Vicatania e ben ritrovati al nostro ormai consueto appuntamento settimanale con la rubrica siciliana Mende Mangiando, oggi abbiamo voluto creare un qualcosa di alternativo di cosa si tratta Vincenzo. Oggi faremo un primo delle farfalle, utilizzeremo un ingrediente che di solito è visto utilizzato in prodotti dolci, noi invece lo utilizzeremo per fare un piatto salato, faremo delle farfalle con i fichi e il crudo. Sembra davvero buono, che fa. Andiamo? Andiamo. E allora, quali sono gli ingredienti che utilizziamo oggi? Andiamo ora a vedere insieme. Dei fichi freschi, delle farfalle, del cipollotto, del crudo a cubetti, sale, pepe. Iniziamo tagliando la nostra cipolletta e mettiamola a soffriggere in abbondante olio d'oliva. Aggiungiamo quindi il prosciutto a tocchetti e saltiamo in padella. Nel frattempo puliamo i fichi e tagliamoli a spicchi. Aggiungiamoli quindi al condimendo e lasciamoli insaporire per qualche minuto. Gettiamo le nostre farfalle in una pendola portata precedentemente a bollore e, non appena saranno cotte, saltiamole in padella con il nostro condimento. Serviamo e consumiamo il piatto caldo. E siciliamente mangiando? Anche questo è fatto. E noi cosa facciamo? Ce l'ho gustata. Eh!